E adesso musica con Lorenzo Giovanotti che ha annunciato per quest'estate un tour sulle spiagge di tutta Italia. Lo ha incontrato Carola Carulli. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang non era solo una canzone, era una visione, quella di un ragazzo che non ha mai smesso di sognare con la musica e il suo sogno arriverà in tante spiagge d'Italia con concerti che saranno villaggi animati con il mare a fare da sfondo. È un villaggio fantasmagorico che sta su per un solo giorno, quindi ci possiamo permettere di immaginarlo come un paese utopico, dove per un giorno si realizza un'idea di mondo. Una festa che è una piccola isola di White dove Giovan porterà tutta la sua energia in un'esplosione di note e performance come solo lui sa fare e ci racconterà i suoi chiari di luna. Di ballare abbracciato con te al chiaro di luna Quel DJ che è stato torna in prima linea a cantare insieme al suo pubblico e con quell'entusiasmo di sempre ci rivela la sua idea di futuro. Sono uno che ha molta fiducia nel futuro. Poi guardo i ragazzi, questa fiducia mi viene, ho una figlia che ha 20 anni, è una fiducia che è alimentata dai fatti, insomma. Incontro continuamente ragazzi che hanno l'età di mia figlia e che mi infondono molta speranza.